Si chiamava Kylan Shangru, era un bimbo americano che viveva nella riserva indiana di Pine Ridge, nello stato del sud Dakota, negli Stati Uniti d'America ovviamente, purtroppo è morto, si è spento per colpa delle terribili percosse che la mamma le avrebbe causato, gli avrebbe causato. Infatti a due anni d'età avrebbe fatto la pipì a letto, la mamma l'avrebbe punito addirittura provocandogli la morte, infatti lo avrebbe picchiato fino a ridurlo un cadavere. La colpa sarebbe stata quella di non essere riuscito a trattenere la pipì nel vasino la notte, bagnando il letto come conseguenza primaria. Una cosa che è comune a moltissimi bambini piccoli che non hanno facilità a trattenersi e quindi non riescono a controllare l'uretra o meglio lo sfintere, quindi accapita che a volte si facciano la pipì o la popò addosso. È un problema comune ripeto a tanti bimbi, ma la donna che sarebbe Katrina Shangru avrebbe iniziato a picchiarlo, avrebbe perso il controllo e gli avrebbe causato delle lesioni letali. Vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Kailin Shangru riposi in pace. Amen.